Dal libro Dottrine di Salvezza, volume 3, Joseph Fieldy Smith Segni che procederanno alla seconda venuta Quando verrà Cristo? La seconda venuta sarà domani. Non molto tempo fa mi fu chiesto se sapevo quando sarebbe venuto il Signore. Risposi sì. Allora sì, rispondo ora. Io so quando Egli verrà. Egli verrà domani. Abbiamo la sua parola a questo proposito. Lasciate che ve la legga. Ecco da oggi fino alla venuta del figlio dell'uomo. Si dice oggi ed in verità è un'epoca di sacrificio. E' un giorno per la decima del mio popolo, poiché colui che dà la decima non sarà bruciato alla sua venuta. Poiché dopo l'oggi viene l'incendio. E ciò è per parlare alla maniera del Signore. Poiché in verità io vi dico, Domani tutti orgogliosi e coloro che agiscono con mavalgità saranno come stoppie. E io li brucerò, poiché sono il Signore dell'esercito. E non risparmierò nessuno di coloro che rimangono in Babilonia. Così io dico che il Signore viene domani. Allora cerchiamo di essere pronti. L'anziano Orse F. Whitney era solito scrivere intorno alla sera del sabato del Tempio. Noi stiamo vivendo nella sera del sabato del Tempio. Questo è il sesto giorno che si sta avvicinando alla fine. Egli verrà nel mattino della domenica o settimo giorno nell'esistenza temporale e della terra per inaugurare il regno milennario e per prendere il suo legittimo posto come re del re e signore dei signori per regnare e dominare sulla terra come è suo diritto. Satana ha usurpato il potere e l'autorità fin dal principio e gli uomini lo hanno seguito ma il suo giorno si sta avvicinando alla fine mentre per Israele, per Sion, per l'universale istituzione della verità sta sorgendo il giorno in cui la terra sarà purificata da tutte le impunità e malvagità perché quando Cristo verrà ciò che è malvagio non potrà rimanere. Il giorno del Signore è vicino. Io credo che la venuta del Figlio di Dio non sia lontana. Non so il giorno preciso ma so che è di cent'anni più vicino di quanto lo fosse al tempo in cui il profeta Elia apparve al profeta Joseph Smith e a Oliver Cowdery nel tempio di Kirkland il 3 aprile 1836. Le parole di Elia richiamano la nostra attenzione sul fatto che noi siamo molto più vicini. Questo antico profeta dichiarò che con la restaurazione di quelle chiavi noi avremmo saputo che il giorno grande e terribile del Signore è prossimo, anzi alla porta. Il mondo sta rapidamente arrivando alla sua fine, cioè alla fine dei giorni di malvagità, quando i uomini saranno pienamente maturi in iniquità e il Signore verrà nelle nuvole del cielo per vendicarsi degli empi perché la sua collera si è infiammata contro di loro. Non crediate che egli ritardi la sua venuta, molti dei segni del suo avvento sono già stati dati, quindi possiamo sapere, se lo vogliamo, che il giorno è ora alla porta. Alcuni di coloro che vivono in questo periodo possono vedere la seconda venuta. Il giorno della venuta del Signore è vicino. Io non so quando sarà, tuttavia non considero la venuta del figlio o dell'uomo come si poteva considerare un tempo o il giorno in cui i uomini avessero comunicato da una città all'altra e attraverso tutta la terra senza l'aiuto dei figli. Cioè, come qualcosa che avrebbe potuto accadere, ma certamente in un tempo lontano, perché io credo sinceramente che i verrà proprio quando alcuni di noi saranno ancora qui, su questa terra. Quel giorno è alla porta. E' dopo, quindi, che noi, come Santi dei ultimi giorni, mettiamo le nostre case in ordine, osserviamo i comandamenti di Dio, ci distoriamo dal male per volerci al bene e alla giustizia, servendo il Signore con umiltà, fede e preghiera. Cristo verrà nei giorni della malvagità. Quando saremo maturi in iniquità, allora il Signore verrà. Talvolta mi sento contraviato quando qualcuno dei nostri anziani dice che il Signore verrà quando saremo tutti abbastanza retti da essere degni di riceverlo. Il Signore non aspetterà che diventiamo retti. Quando egli sarà pronto per venire, verrà quando la coppa dell'iniquità sarà colmo e se allora non saremo retti, peggio per noi, perché saremo annoverati fra gli empi e considerati come stoppia che dovrà essere spazzata dalla terra, perché il Signore dice che alla malvagità non sarà permesso rimanere. Non pensate che il Signore rimandi la sua venuta, perché egli verrà nel tempo stabilito e non nel tempo che io ho sentito predicare da qualcuno quando la terra sarà divenuta sufficientemente retta da accoglierlo. Ho sentito uomini che occupano posizioni di fiducia nella Chiesa a predicare questo, uomini che si pensa conoscano bene la parola del Signore, ma che invece non hanno capito le scritture. Cristo verrà nel giorno della malvagità, quando la terra sarà matura nell'iniquità e pronta per essere purificata, ed il Salvatore ne sarà il purificatore, e tutti i malvaggi saranno come stoppia e saranno consumati. L'annunzio del Vangelo precede la seconda venuta. La voce di ammovimento precede sempre i giudizi. Non sarebbe una cosa molto strana se il Signore dovesse venire e instaurare il suo regno di pace, vendicandosi dei malvaggi e purificando la terra dal peccato, senza mandare prima messaggeri a preparargli la via? Dobbiamo pensare che il Signore verrà a giudicare il mondo senza prima avvisarlo a dare una possibilità di scampo a tutti quelli che si pentiranno? Noè fu mandato nel mondo per avvertire i uomini del diluvio. Se la gente avesse ascoltato, sarebbe scampata. Mosè fu mandato per giudicare Israele nella terra promessa e adempiere le promesse fatte da Abramo. Giovanni Battista fu mandato per preparare la via per la venuta di Cristo. In ciascun caso la chiamata venne attraverso l'apertura dei cieli. Isaia, Geremia e altri profeti furono mandati per avvisare Israele e Giuda prima che esse fossero disperse e fatte prigioniere. Se avessero prestato ascolto, sarebbe stata scritta una diversa pagina di storia. Esse avevano avuto l'occasione di udire. Esse furono ammonite e fu loro offerto il modo di sfuggire, ma lo rifiutarono. La testimonianza del Vangelo precede la seconda venuta. Il Signore ha promesso lo stesso interesse per l'umanità nel periodo che precederà la sua seconda venuta. Egli ha detto «E questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti, ed allora verrà la fine. Ed ancora, e manderà i suoi angeli con gran suono di trombe a radunare i suoi eletti dai quattro venti, dall'un capo all'altro dei cieli». A Patmo Giovanni ebbe una visione degli ultimi giorni in cui vide un angelo che volava in mezzo al cielo recante l'Evangelo Eterno per annunziarlo a quelli che abitano sulla terra e ad ogni nazione e tribù e lingua e popolo. Joseph Smith di Carocchia e Moroni, un antico profeta del continente americano, ora risorto, in parziale adempimento di questa promessa, insegnò il Vangelo, dando anche istruzioni relative alla restaurazione delle cose che precederanno la seconda venuta di Cristo. E il Signore ha detto «Ecco, infatti, il Signore Dio ha mandato l'angelo che grida nel mezzo del cielo, dicendo, preparate il cammino del Signore, raddrizzate i suoi sentieri, poiché l'ora della sua venuta è prossima». «Accettando queste come verità, i Santi degli ultimi giorni credono che nei tempi moderni sia stata stabilita la comunicazione con i cieli, sì che ora il Vangelo del Regno viene diffuso come un testimone per il mondo prima che Cristo venga». Il cristianesimo apostata non reca alcun avviso della seconda venuta. È chiaro a tutti che gli insegnamenti delle cosiddette chiese cristiane sono stati diffusi in tutto il mondo per molte centinaia di anni, in tutti i paesi sono state organizzate chiese e i loro ministri hanno proclamato i rispettivi insegnamenti. Nel loro messaggio non c'è niente di particolare in relazione all'età presente, niente di insolito che possa indicare che qualcuna di esse o tutte debbano fare una speciale proclamazione del Vangelo del Regno, Vangelo promesso come testimone negli ultimi giorni. La deduzione che si può trarre da queste parole di nostro Signore è che questo Vangelo del Regno sarà predicato per tutto il mondo, onde ne sia resa testimonianza a tutte le genti e da allora verrà la fine. E' nei ultimi giorni il segno che il Signore darà a tutte le nazioni, è un nuovo invio del messaggio evangelico del Regno che sarà differente dagli insegnamenti impartiti e accettati dalle nazioni. Altrimenti, come potrebbe essere riconosciuto e accettato come un segno della sua seconda venuta? Inoltre, quando questa proclamazione del Vangelo del Regno sarà fatta a tutte le nazioni, allora verrà la fine, cioè sarà il tempo dell'apparizione di nostro Signore. La predicazione delle molte dottrine, delle varie confessioni religiose, fatta a tutte le nazioni moltissimi anni fa, ma alla fine non venne con questa proclamazione universale. Il Vangelo, restaurato, ammonisce il mondo A Joseph Smith e ai suoi compagni fu detto da messaggeri celesti e per mezzo della rivelazione che la responsabilità di questo messaggio ricadeva su di loro. Fu loro detto inoltre che la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni era incaricata di mandare in tutte le nazioni degli ambasciatori di Cristo con lo speciale messaggio di questo, di questo Evangelio del Regno. A questo proposito il Signore ha detto La voce di ammonimento andrà ad ogni popolo per bocca dei miei discepoli che ho scelto in questi ultimi giorni e andranno innanzi e ognuno li arresterà poiché io il Signore li ho comandati. I Santi degli ultimi giorni possono essere considerati strani e particolari perché credono di essere stati invitati ad adempere questa antica scrittura, Ma è con piena fiducia che il Signore ha detto che essi stanno diligentemente mandando missionari in tutte le parti della terra. Inoltre, quando tutte le nazioni avranno udito questo messaggio, come è stato rivelato in questi ultimi giorni, allora potremo aspettarci la venuta del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Perché quel giorno tutte le nazioni saranno state avvisate da messaggeri mandati loro secondo la promessa del Signore. Le invenzioni moderne contribuiscono a rinforzare la voce di ammonimento. Quest'opera di predicazione del Vangelo in tutte le nazioni non è ancora finita. I missionari della Chiesa vanno adesso nel mondo con questo messaggio, ma il Signore ha detto che EI accorcerà la sua opera in giustizia e che la affetterà a suo tempo. Per mezzo delle moderne invenzioni e scoperte, si può facilmente vedere come questo possa essere fatto e come il cuore della gente di tutto il mondo possa essere raggiunto per mezzo della radio, della stampa e di altri mezzi di comunicazioni. Cose che i tempi passati non avevano. Io non so quanto tempo ci vorrà prima che questa missione sia compiuta e affinché queste parole del nostro Signore e Salvatore, Salvatore Gesù Cristo, si avverino, ma credo fermamente che Egli lavorerà con grande velocità e che realizzerà i Suoi disegni nel tempo da Lui stabilito senza venir meno alle Sue promesse. A rifiuto dell'ammonimento evangelico fanno seguito alle sventure. Gli anziani di Israele portano il messaggio di salvezza a tutti coloro che vogliono credere mentre ammoniscono gli altri finché non possano accampare. Scusa, orbene, di tanto in tanto qualcuno pieno d'odio per la verità nel cieco desiderio di distruggere l'opera del Signore fa appello alle nazioni perché scaccino gli anziani. Sarebbe un triste giorno per qualsiasi nazione laddove viene predicato il Vangelo se esso si dovesse concludere con l'espulsione degli anziani della Chiesa e dei suoi confini e con la negazione del diritto di predicare il Vangelo al popolo. Gli anziani assicurano la pace alle nazioni che ascoltano il messaggio di salvezza e che proteggono e difendono la verità ma guai alle nazioni che scacceranno gli anziani e non accoglieranno la loro testimonianza piegandosi così alla schiavitù di Satana come dice l'inno che abbiamo ascoltato questo pomeriggio. Nella parola del Signore si legge che dopo la testimonianza degli anziani le persone saranno accolpite dalla cosera e dall'immignazione celeste. A quelle testimonianze seguirà la testimonianza dei terremoti che causerà sofferenza e dolori e gli uomini cadranno a terra per la paura. Ci sarà anche la testimonianza dei tuoni, il segno, il segno dei lampi, l'urlo della tempesta e la voce delle onde del mare che si solleveranno paurosamente. Tutte le cose saranno in commozione e il cuore degli uomini verrà meno per la paura che si impadronirà di loro. Queste cose seguiranno la testimonianza degli anziani della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi dei Ultigioni se i popoli del mondo li respingeranno e li scacceranno dai loro territori. Accettazione del Vangelo prima della seconda venuta I tempi dei gentili si addempieranno. Noi andiamo in mezzo a loro con un messaggio di pace, di verità e di salvezza eterna esortando il pentimento dei loro peccati e ad entrare nel vero ovire, dove potranno ricevere il riposo. Ma se invece di far questo scolteranno gli empi e contenderanno la verità, allora Dio toglierà loro il Vangelo e in quel giorno, tempo dei gentili, si addempieranno e il Vangelo sarà portato agli ebrei. Sì, perché questo Vangelo, oltre che alle nozioni dei gentili, deve essere predicato anche agli ebrei e l'urrimanente degli ebrei si radunerà. Come si sta radunando dal tempo in cui la loro terra è stata dedicata per il raduno in Palestina come l'urrimanente di Efrem si sta ora radunando nella terra di Sion. Alla seconda minuta gli ebrei si convertiranno, al momento giusto gli ebrei saranno stabiliti nella loro terra e il Signore verrà secondo la sua promessa al suo popolo nell'ora della sua angoscia e lo libererà dai suoi nemici. Allora essi lo guarderà e scoprendo le sue ferite chiederà che sono queste ferite sulle tue mani? Ed egli risponderà Sono quelle che ricevetti nella casa dei miei amici Allora tutti cadranno in ginocchio e lo adoreranno come loro Redentore e il figlio di Dio dopo tale avvenimento essi saranno purificati dai loro peccati e riceveranno il Vangelo. E in quel giorno il Signore annienterà le nazioni che cercano di distruggere Gerusalemme perché egli sarà il re di tutta la terra e la giustizia prevarrà fra il popolo Sion sarà edificata sul continente americano Gerusalemme sarà riedificato sul vecchio continente e la malvagità si allontanerà dalla terra perché quando verrà Cristo e giusti con Lui i malvagi saranno come stoppi e saranno consumati Perciò io desidero rendere testimonianza e dire a coloro che alzano le mani contro quest'opera badate bene a non farlo perché questa è l'opera di Dio e io la stabilita e se la respingete voi ne rispenderete l'autore e dopo la testimonianza degli anziani verrà quello del dolore e dell'angoscia come hanno predetto i profeti Gli ebrei cominceranno a credere prima della seconda venuta Dalle scritture deduce che gli ebrei che crederanno in Cristo prima che egli ritorni tra noi sono relativamente pochi Il libro di Mormon ci dice che essi cominceranno a credere in Lui come hanno già cominciato oggi gli ebrei considerano Cristo come un grande maestro lo hanno riconosciuto come uno dei loro grandi dottori essi hanno detto Ehi è l'ebreo degli ebrei il più grande maestro di tutti loro come uno di essi ha stabilito Nel 1830 quando fu restaurato il Vangelo se un ebreo avesse menzionato il nome di Cristo in una delle sinagoge sarebbe stato additato al pubblico di Asimo Se un rabbino avesse fatto riferimento a Lui la congregazione si sarebbe alzata e sarebbe uscita dall'edificio Vediamo quindi che da allora i sentimenti sono mutati Ora io dichiaro questo in base a quanto è stato detto dai membri della religione ebraica Essi stanno cominciando a credere in Cristo ed alcuni di loro stanno accettando il Vangelo Ma la parte principale di loro quando si ridurrà a Genusalemme sarà ancora miscredente sarà predicato loro il Vangelo ed alcuni di essi ricrederanno Non tutti i gentili hanno crevuto quando il Vangelo è stato predicato loro e la maggior parte di ebrei che là sono giunti non riconosceranno Cristo come loro Redentore finché Egli stesso non verrà e non si manifesterà a loro Dov'è che il Signore troverà la fede quando verrà? Io posso testimonare che quando il Signore verrà troverà la fede sulla terra Tuttavia questa fede che Egli troverà sarà limitata a un gruppo molto osivo di abitanti della terra Egli non troverà fede nelle nazioni straniere non troverà fede fra i popoli della terra che non hanno accolto il Vangelo come è stato restaurato ma ci sarà fede presso quelli della Casa Israele che sono stati radunati fuori dalle nazioni che si sono pentiti dei loro peccati ed hanno accolto il messaggio pervenuto attraverso il profeta Joseph Smith Grazie a tutti Grazie a tutti.